L'Italia sedesta, cambiamola insieme. Un futuro migliore è possibile. È possibile soprattutto avere una migliore classe dirigente, persone che ci rappresentano all'interno delle istituzioni di cui non doverci vergognare, ma di cui essere orgogliosi, perché lavorano a disposizione di tutti. Cambiare la classe dirigente per avere una politica migliore e dalle mani pulite il primo impegno dell'Italia dei Valori. Per questo noi ci siamo presentati e ci presentiamo alle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio con l'impegno di presentare agli elettori, amministratori, consiglieri comunali e provinciali degni di questo nome che con le mani pulite possano amministrare la cosa pubblica. Al primo posto intendiamo mettere la solidarietà, la difesa delle fasce sociali più deboli, l'assistenza agli anziani, un ambiente vivibile, delle città vivibili, perché siamo stanchi di vedere quei pochi soldi a disposizione che ci sono utilizzati per cose che non sono prioritarie e invece vengono abbandonati le fasce sociali più deboli, i servizi essenziali, le priorità che servono a coloro che si affidano allo Stato pensando che lo Stato possa aiutarli a risolvere i loro problemi. Pensiamo soprattutto a dare un futuro ai nostri giovani, pensiamo a dare una serenità ai nostri anziani, pensiamo a dare un ambiente vivibile sia sul piano della difesa del suolo, sia sul piano della viabilità, della cultura al nostro territorio. Per questa ragione io invito i cittadini il 15 e 16 maggio ad andare a votare e dare una mano a noi dell'Italia dei Valori che come avete visto in questi anni non abbiamo ceduto né a ricatti né a pressioni né a logiche di compraventita, ma con grande dignità nel Parlamento e nelle piazze stiamo cercando di rappresentare quell'Italia che mette al primo posto l'orgoglio di essere italiani, gli interessi collettivi e non le leggi adipersonamo, le leggi ad uso e consumo personale, i conflitti di interessi, gli approfittamenti, le corruzioni e le malversazioni. Un'Italia più giusta che può dare un futuro migliore è quella che passa attraverso il voto al 15 e 16 maggio che voi potrete dare perché noi dell'Italia dei Valori ci siamo sempre, con la passione, l'energia e l'onestà di sempre, con le mani pulite di sempre. Il 15 e 16 maggio vota Italia dei Valori. L'Italia se desta.